Salve ragazzi, sono Carlo Napodano Oggi ritorniamo su un argomento di cui già abbiamo parlato cioè lo squirting Vi consiglio appunto di vedere la prima parte dove spiego che cos'è nello specifico e indico varie manovre appunto per portare la nostra partner allo squirt Ad ogni modo, un mio fan vedendo la prima parte mi ha detto, sì Carlo indichi come fai vedere la posizione e quant'altro però come ci riesco? Come ci arrivo? Cosa devo fare per portare la mia donna allo squirt? Prima di parlare di ciò, volevo correggere un concetto espresso nel primo video dove appunto dicevo che lo squirting è una pratica per tutte le donne Non è così, mi sono informato maggiormente e solo una parte delle donne è così fortunata da poter squirtare Ciò dipende appunto anche dalla conformazione fisica Ci sono donne che per conformazione proprio non hanno possibilità di squirtare mentre altre non ci arrivano solo per una mancata conoscenza del proprio corpo Di fatti, per le donne che non praticano autoerotismo sarà molto più difficile e complesso raggiungere lo squirt mentre per le donne che praticano frequentemente massurbazione e conoscono il proprio corpo sarà molto più facile raggiungere questo piacere immenso Quindi ancora prima di pensare allo squirting dovete imparare a massurbare cioè dovete imparare a conoscere il proprio corpo e attraverso la simulazione del vostro punto G potrete riuscire man mano ad arrivare a quel punto da permettervi di squirtare Per voi maschietti, quindi se avete una partner che non procede all'autoerotismo e alla masturbazione sarà un po' difficilotto riuscirci Per raggiungere lo squirt bisogna partire da un'intensa simulazione del punto G Se non sapete qual è il punto G mi faccio aiutare sempre dalla solita nappi che ci accompagna sempre nei nostri video In pratica il punto G dove si trova? Si trova all'interno della cavità vaginale nella parte anteriore Di solito, come ho detto già in un altro dei miei precedenti video è una parte spugnosa quindi quando entrate tirate il dito verso il fuori, verso la parte anteriore e iniziate a massaggiare questa parte quando trovate una sorta di parte un po' spugnosa, un po' rugosa quello è il punto G Dunque, come dicevamo bisogna simulare sia il punto G che sta all'interno della cavità vaginale e sia attraverso la stimolazione del clitoride che, per chi non lo dovesse sapere è questa piccola escrescenza che si trova sempre sulla parte superiore della vagina parte che, se stimolata bene, si gonfia Difatti, per chi non lo dovesse sapere il clitoride è una sorta di pene però di questo ne parleremo in uno dei miei prossimi video Dunque, questa simulazione del punto G e del clitoride sollecita la vescica che, appunto, favorisce questo rilascio Vi ricordo inoltre che il liquido dello squirting è in odore e in colore e inoltre non è affatto urina così come dicevo nel mio primo video Quindi, se durante un rapporto sentite la sensazione di fare della pipì oppure di urinare non abbiate timore perché, appunto, può essere che state per squirtare Se durante un rapporto vi è capitata questa situazione e vi siete fermate per paura che fosse urina Peccato, vi siete persi una grande sensazione e un grande godimento Quindi, come arrivarci? Come abbiamo detto bisogna avere una gran confidenza con il proprio corpo bisogna essere a proprio agio con il proprio partner e, cosa molto importante bisogna essere eccitate dalla situazione Ovviamente, ci deve essere la giusta lubrificazione la donna deve essere eccitata deve essere bagnata Dunque, si deve procedere con questa manovra e quindi fare eccitare portare la donna al punto massimo di godimento appunto attraverso questa stimolazione del punto G che possa avvenire a condita che possa avvenire con il pene con un gioco con un sex toys con qualsiasi cosa vogliate l'importante è portare la donna ad un livello di eccitazione molto alto Dunque, arrivata al picco massimo di godimento che stiate appunto giocando con dita che stiate effettuando la penetrazione o qualsiasi altra cosa uscite fuori procedete con l'intensa simulazione del clitoride unendo le due dita iniziando prima a massaggiare lentamente e poi procedendo con una simulazione molto più veloce e molto più forte vedrete che ad un certo punto lei squirterà sgorgano come i fiumi ci sono però donne che riescono a squirtare anche semplicemente con la penetrazione con la stimolazione del punto G di fatti spesso mi è capitato che una mia partner nel momento di penetrazione il tempo che uscivo come uscivo squirtava automaticamente senza nemmeno praticare la manovra con le due dita quindi è anche questa una cosa molto soggettiva però per diciamo la maggioranza la stragrande maggioranza delle donne bisogna stimolarla con le dita wow, io morito non ci posso fare come volessi essere femmino sono invidioso cioè volessi essere femmino una volta solo puoi squirtare un po' questa sensazione mi è capitato inoltre un'altra cosa ci sono alcune ragazze alcune donne che essendo molto consapevoli della propria sessualità del proprio corpo durante la penetrazione da sole senza dire nulla si fermavano diciamo fermati un attimo uscivano e da sole con le proprie dita praticavano la stimolazione del clitoride e squirtava diciamo un po' ovunque dove capitava però vi ripeto ecco vedete ci sono donne che conoscendo il proprio corpo già sanno come fare dunque mio caro fan ecco come si procede allo squirting credo di essere stato abbastanza esaustivo e da averti fatto capire nello specifico questa volta come si può arrivare allo squirt vi invito come sempre a condividere il mio video con persone che magari possono trarre beneficio e qualche consiglio dalle mie informazioni per oggi è tutto vi invito a mettere un like ad iscrivervi al mio canale e non vi dimenticate di cliccare sulla campanellina così sarete sempre aggiornati su tutti gli argomenti riguardanti il mondo del sesso e dei sex toys noi ci rivediamo nel mio prossimo video perché il sesso è ovunque ciao ciao